Noi ovviamente prendiamo atto in assoluto delle linee guida che approva il governo sulla base delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi quella è la traccia alla quale noi dovremo attenerci. Ma lo ripeto, noi dobbiamo combattere gli imbecilli doppi. L'imbecille normale è quello che non porta la mascherina. Poi c'è l'imbecille doppio che è quello che la porta, ma la porta appesa al collo come un ciondolo. Quello è scemo due volte, perché si prende il fastidio e non si prende neanche la tutela sanitaria. C'è un po' di apprezzione per i dati che verranno fuori nei prossimi giorni, ovviamente siamo tutti in attesa di capire questa riapertura quale effetti porterà. Apprezzione, io ho i brividi addosso, altro che apprezzione. Noi dobbiamo sapere in questo fine settimana quali sono le ricadute dell'apertura del 4 maggio, quindi dopo due settimane ci sarà l'incubazione del virus, quindi sapremo se c'è qualche focolaio che si riprende. Ovviamente noi ci siamo preparati a tutto. Deve essere chiaro che da oggi in poi, senza il senso di responsabilità e l'autocontrollo dei cittadini, non basterà nessuna ordinanza. In Campania, lo ricordo, è obbligatorio l'uso della mascherina ed è obbligatorio che le forze dell'ordine, tutte le polizie municipali, siano attente e sanzionino quelli che non rispettano le ordinanze. Perché se tutti quanti girano la testa dall'altra parte, noi andremo verso una tragedia. È bene dirlo chiaro e forte. Allora, se abbiamo i cittadini che rispettano le ordinanze, mantengono un livello elementare di protezione, mascherine sempre indossate, distanza, lavaggio delle mani, credo che potremo aprire tutte le attività. Se questo senso di responsabilità non c'è, dobbiamo prepararci a una tragedia. Tutto qui. Grazie.